L'hanno definita la signora della scienza per via della sua grande determinazione e del suo carisma con il quale è arrivata davvero lontano. Educata, austera, riservata, ma sempre pronta al dialogo, così la ricordano in tanti collaboratori e residenti del quartiere romano in cui abitava da decenni. La Camera Ardente è stata aperta nel pomeriggio dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal Presidente del Senato Renato Schifani. Una grande perdita per la scienza italiana internazionale, così è stata commentata da tutto il mondo scientifico e non la scomparsa del premio Nobel per la medicina. L'Associazione Scienze Vita ne ricorda la tenace dedizione allo studio e alla ricerca che hanno contribuito a scrivere una pagina fondamentale della storia della medicina, anche se talvolta la sua abnegazione l'ha portata a sposare posizioni poco difendibili dal punto di vista etico e scientifico. Rita Levi Montalcini nel 1986 vinse il premio Nobel per la medicina grazie alla scoperta e all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa. È stata inoltre la prima donna a essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Nel 2001 fu nominata senatrice a vita dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzelio Ciampi, che la scelse per i suoi meriti sociali e scientifici. Rita Levi Montalcini ha continuato a studiare fino alla fine. Secondo fonti vicine alla famiglia, la senatrice a vita ha lavorato ai suoi studi fino alle 21 di sabato sera. Il premio Nobel per la medicina ha continuato dunque le sue ricerche fino all'ultimo giorno. I funerali si svolgeranno il 2 gennaio a Torino, con rito ebraico e in forma privata.